Via Sanfermo siamo in compagnia della signora Marchesina Giovanna, esercente del centro. Come vivete la situazione appunto di questi furti, delle famose spaccate e le istituzioni sono presenti? Ma francamente la viviamo molto male perché chiaramente ci sentiamo vulnerabili. Ci sentiamo vulnerabili perché chiaramente non protetti per quello che riguarda magari il reparto notte, ma non solo per la notte, anche appena è l'orario di chiusura, quando devi uscire e chiaramente non c'è giro, non c'è gente nel movimento, nella passeggiata. Altro problema è legato alla mancanza di luminosità. Tanti negozi chiusi hanno creato chiaramente degli occhi bui sotto i portici, nelle vie. Chiaramente se non c'è questa nota di luce che continua, e questo chiedo anche magari una responsabilità anche di chi abita, di avere una luce davanti a un portone, una luce nel sottoportico, un minimo anche di... sento un rumore, avviso qualcuno, ci siamo trovati a riscoprire che anche se parte l'allarme non c'è il vicino, quello che ci abita sopra, che chiama qualcuno, che chiama la polizia. E ritrovarsi alla mattina, oppure chi ha, per fortuna, i collegamenti, in modo tardivo, questo chiaramente permette all'ado di poter agire indisturbato, anche se parte l'allarme, sa che ha 5, 10, 15, 20 minuti, anche mezz'ora, è angosciante. Questa cosa è angosciante perché significa che, ok, parte un allarme, ma chi se ne frega, chi sarà? Cioè, è questa la preoccupazione. Finirete per vivere in bottega, come si dice in Veneto? Non sarebbe la prima volta, purtroppo è già successo, anche nei miei casi, quando ho subito dei furti e quando doveva, non c'erano ancora le protezioni, non nego, ho dormito dentro il negozio per più di qualche notte.